Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della maschera riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video voglio mostrarvi il contenuto della scatola di Flourish. Questo è un gioco che mi è appena arrivato. Stiamo realizzando questo video il giorno 8 marzo 2021 e questa mattina un solerte corriere mi ha recapitato questo gioco. Un gioco che sostegna suo tempo su Kickstarter e per essere più precisi dove eccolo qua? Beh intanto pensate raggiunse il 1103 per cento del suo obiettivo quindi ebbe un grandissimo successo. È un gioco che parte già avvantaggiato dal fatto che il suo autore è James Wilson che è lo stesso autore di Everdell. Un gioco che ha avuto un grandissimo successo che noi amiamo moltissimo. Anzi andatevi a vedere tutti i vari video su Everdell che abbiamo pubblicato qui sul canale. Ne abbiamo fatto uno relativo al gioco base, un gameplay del gioco base, la nostra opinione del gioco base e anche tre video dedicati a tutte e tre le espansioni già pubblicate ma ne usciranno altre due proprio domani credo se non ricordo male. Forse proprio nel momento in cui questo video verrà messo sul canale forse sta aprendo o ha aperto già il Kickstarter per le prossime espansioni di Everdell. Ecco questo gioco, Flourish, è dello stesso autore e anche dello stesso produttore Starling Games e vi voglio dire a quando risale il Kickstarter. Allora il Kickstarter terminò il primo ottobre 2020 e vediamo, vediamo un po' quando era prevista la marcia 2021. Beh perfetto, incredibile, sono molto rari i Kickstarter che sono così, che spaccano il minuto per così dire in maniera così decisa. Quindi bravi complimenti a Starling Games che hanno rispettato perfettamente la deadline diciamo che si erano posti e pagai 33 euro più spedizione. Quindi neanche tanto, è una scatolina non particolarmente grande ma sembra ricca. Quindi adesso scopriremo assieme cosa c'è, cosa c'è al suo interno. Quindi bando alle ciance, abbassiamo lo sguardo sul tavolo e scopriamo insieme il contenuto della scatola di Flourish. Signore e signori, ecco a voi Flourish! Quindi scopriamo insieme cosa c'è dentro questa scatola. Intanto voglio farvi notare che, allora, no, qui non è a rilievo ma da qualche parte è a rilievo. Aspetta, o è a rilievo anche qua? Ah, è a rilievo questo, è a rilievo, sono a rilievo queste firme. È la Signature Edition, vedete, quindi probabilmente ce n'era una. Boh, anche più economica, queste non sembrano vere firme però, cioè sono firme tipo stampate e incise. Ma forse anche qua in realtà è a rilievo. Forse qui non riesco tanto a sentire se è a rilievo, ma qui è sicuramente a rilievo. C'è qualcosa che si muove all'interno, come potete sentire. E vedete, from the award winning creators of Everdell, Flourish. In realtà il gioco, allora, Everdell è accreditato solo a James Wilson. Qui è accreditato a James, questo qui è accreditato a James e Clarissa Wilson, che sarà la moglie, forse? Ma chi può dirlo? Comunque l'arte purtroppo non è di Andrew Bosley, mi sarebbe tanto piaciuto. È l'autore degli artwork di Everdell, che amo molto, ma insomma sembra anche questo comunque, no? Vedete che, diciamo, non c'è lo stesso autore degli artwork, però comunque c'è un'atmosfera anche qui molto bucolica. Non ci sono gli animaletti, ci sono le piante, ma insomma rimane un po' questa atmosfera bucolica, no? L'arte comunque è di quattro persone. April Borchelt, Naomi Robinson, Christina Key e Dan May, va bene? Vedete, viene suggerito come range di età 8+, supporta fino a 7 giocatori, pensate, è anche la modalità in solitario, e dura 20 minuti, quindi è un gioco molto breve, molto più breve, molto più semplice rispetto a Everdell. Anche la scatola è molto più piccola, adesso non so se riuscite a vederlo, ma anche la scatola è molto più piccola. E dice qui sotto che The Signature Edition includes two expansions, va bene? Quindi probabilmente, non lo so sinceramente se quando questo gioco andrà nei negozi, se andrà nei negozi, presumo di sì, non so se conterrà automaticamente queste espansioni, se saranno invece solo un'esclusiva Kickstarter, queste cose, sinceramente, su questo sinceramente non sono preparato, quindi vedremo se un giorno questo gioco appunto raggiungerà gli scaffali dei negozi, come sarà. Va bene, bando alle ciance e apriamo la confezione e ovviamente non ci riesco, vediamo un po'. Oh, sto cercando di aprirlo con l'unghia, ma è un'impresa che va al di là delle mie possibilità, quindi sapete cosa faccio? Prendo un coltellino, un bel coltellino da cucina, eccolo qua, guardate che bello, invece di usarlo per tagliare una bella bisteccozza, lo usiamo per tagliare questo cellofan molto bene, vediamo se è sufficiente, non riesco a prenderlo, sì, ok, perfetto, l'ho preso, quindi apriamo, apriamo questa scatola e vediamo insieme, buttiamo via la plastica e buttiamo insieme, vediamo insieme che cosa c'è dentro. Oh, eccola qua, intanto è una scatola di cartone bella rigida, guardate c'è anche un bel cielo all'interno, apprezzo sempre molto quando le scatole, in fondo sono parte del prodotto, quindi è sempre molto triste vedere le scatole trattate come qualcosa di serie B rispetto al gioco. Guardate che bello, cosa sono questi? Questi hanno l'area di essere, tipo forse, hanno l'area di andare nella scatola magari, può essere? Non lo so, magari dei separe per la scatola? Oppure forse devono essere invece usati nel gioco? Non ne ho idea, sappiate che io quando faccio questi unboxing non ho la minima idea di cosa servono le cose, vabbè, insomma, ci sono questi pezzi di cartone, vedete che rappresentano, ma in realtà sono anche, vedete, A, hanno anche delle lettere A, B, C, D, E e questo F, ecco, sono non numerati ma letterati, in realtà in italiano non so se, non credo che si dica così, ma insomma sono segnati con delle lettere che vanno appunto dalla A alla F, poi abbiamo tanti bei mazzi di carte, questo è principalmente un gioco di carte, quindi tanti bei mazzi di carte, vedete questo qui, A most beautiful and award winning garden flourish, ah forse questo è tipo un trofeo questa carta, quindi questi due mazzi di carte, poi abbiamo quest'altro mazzettino di carte più piccolo, questo è il dritto, scusate, rappresenta un pipistrello, quindi deve stare a testa in giù, va bene, poi guardate abbiamo queste qui cosa sono? Sembrano tipo dei fermacampioni, questi servono sicuramente per tipo costruire i modelli 3D o qualcosa di simile, il catalogo dei giochi Starling Games, questo c'era anche all'interno di Everdell, vediamo, a war of whispers non lo conosco, Alien Frontier non lo conosco, Black Orchestra non lo conosco, Everdell questo lo conosco molto bene, flourish è quello che abbiamo in mano, King's Forge l'ho visto ma non ce l'ho, Shadow Rift l'ho visto ma non ce l'ho, fine, vabbè insomma sono i giochi di questo produttore, poi abbiamo il regolamento, presumo, ci sono tanti in realtà regolamenti, vediamo come mai, aspetta 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 scusate, ci sono tanti tanti, poi è pieno di fustelle che vi mostrerò, allora, ah perché sono in tante lingue, questo in tedesco per esempio, Spielregeln, questo è in inglese, Rules of Play, questo è in francese, Règles du Jou, non ho idea, non so il francese, non ho idea se l'ho pronunciato giusto, e qui forse, allora questo è in tedesco, ah ok, Friends and Follies, questa ha l'area di essere l'espansione, no, una delle espansioni, ah sì, vedete, oh guardate, oh ecco qua, abbiamo già risolto il mistero, cioè questi pezzi servono per costruire, vedete, l'insert all'interno della scatola, beh bello, guardate come viene ordinata poi alla fine, ok, e queste sono le istruzioni appunto per l'insert, bello bello, ci piace molto, e poi abbiamo delle fustelle, vediamo se c'è qualcosa, sarà pieno di fustelle e basta, vediamo un po', ok, ecco, alcune hanno già perso dei pezzi, ah che bello, guardate, la scatola, vedete, ha anche queste diverse zone, diciamo, la zona con le piastrelle, la zona con l'erba, beh bello, sono sempre molto contento quando appunto i giochi pensano anche a questo, no, cioè al loro aspetto, alla loro conservazione, e qui siamo pieni di fustelle, va bene, diamo un'occhiata a queste fustelle, guardate che quantità di fustelle, ok, ah, ecco a cosa servono quei fermaglietti, questi qua, servono a fare anche delle ruote, vedete, tipo le ruote di Scythe per i combattimenti, no, infatti sono molto simili a quelle usate, a quelli usati anche, anche in Scythe, quindi probabilmente servono per questo, guardate, le illustrazioni sono molto belle, sono veramente belle, mi sono lamentato prima che non sono di Bosley, ma direi che sono comunque molto belle, questi sono identici, questa è identica anche questa, vediamo un po', ah, ok, ci sono una, ma no, non sono identiche in realtà, perché guardate, sono diverse quelle coccarde, vedete, le coccarde sono diverse, il resto mi sembra identico, anche queste raffigurazioni qua sotto mi sembrano, mi sembrano identiche, quindi andiamo avanti, vediamo, oh, ecco, poi c'è questa, vedete, questa invece è completamente differente, e poi, ecco qua, queste le ultime, diciamo, sono, e poi c'è questa qui che si è in parte staccata, ah, ok, no, questa è la foto trofeo, diciamo, scusate, il token trofeo, e c'è quest'altro token che si è staccato, queste hanno l'area di essere le strutture, diciamo, le strutture che si devono costruire in 3D, no? Non ho la minima idea di come funziona questo gioco, eh, anzi vi faccio vedere velocissimamente il regolamento, vediamo se becco il regolamento del gioco in inglese, ovviamente sarà l'ultimo che mi capita in mano, eccolo qua, Rules of Play, giusto per farvi capire quanto lungo è, no? Quindi vediamo, no, mi sa che c'è un'altra pagina qui, eh, no, non c'è un'altra pagina, è particolarmente grossa, quindi vedete, ah, ma è proprio, non è neanche, vedete, riuscite, non riesco a inquadrarvelo tutto, ma insomma non è neanche un librettino con le graffette, è proprio un foglio piegato in 3, quindi deve essere appunto estremamente semplice, va bene, qui spiega, vedete, come costruire il muro, come costruire quelle, quelle, ah, vedete, quelle ruote vanno inserite all'interno di quelle plance decorate che abbiamo visto prima, il setup, overview, gameplay, scoring example, vedete, deve essere un gioco estremamente semplice e vedete, praticamente tutte le regole del gioco sono su questo lato, su un lato, mentre di qua avete Garden Show, una variante, avete le regole per il solitario, avete un'altra variante e qui avete uno scoring reference e delle tabelle e i crediti, quindi deve essere un gioco appunto estremamente semplice. Poi c'è anche questa espansione nella edizione che ho io, Friends and Follies, che ovviamente ancora una volta non troverò mai in inglese, vediamo un po' se riesco a trovarla, vabbè, niente, vi faccio vedere direttamente, dove è? Dove è cà? Vabbè, vi faccio vedere direttamente quella in francese, anche se non capisco nulla, è solo un foglio, tra l'altro questo foglio è telato tipo regolamento di wingspan, è molto piacevole da toccare, quindi vedete questa espansione va all'aria di essere molto semplice, forse la includerò fin da subito io nel gioco, vabbè, insomma vediamo, di solito quando un'espansione è molto semplice, tendo a includerla nel gioco fin dalle prime partite. Va bene signori, questo è il contenuto della scatola di Flourish, ovviamente in futuro faremo dei video in cui mostreremo a cosa serve tutto ciò, ma intanto vi abbiamo mostrato cosa c'è nella scatola. Bene signori, questo era il contenuto della scatola di Flourish e guardate, nel frattempo ho anche fatto l'insert, vedete, prima avevo fatto vedere i pezzi e alla fine l'insert si compone in questo modo, quindi qui andranno, presumo, le carte da questa parte qui e ha tutta l'aria di poterle contenere anche in bustate, non so se riuscite a vedere, ma insomma vanno in questo segmento, diciamo, è abbastanza solido, quindi sicuramente un applauso per come è fatta questa scatola, questo gioco, questo gioco se lo merita, poi naturalmente dobbiamo ancora costruire tutti questi elementi tridimensionali, dobbiamo ancora occuparci, dobbiamo, non sappiamo ancora come il gioco funziona, ma insomma contiamo di provarlo quanto prima e di naturalmente farvi sapere com'è, quindi in futuro aspettatevi un bel esempio di gioco e un bel video con il nostro parere dedicati a Flourish, siamo molto curiosi perché abbiamo amato moltissimo Everdell e quindi vogliamo vedere se l'autore no, è stato un fuoco di paglia o è effettivamente un autore che va sempre seguito con attenzione, questo James Wilson? Lo scopriremo insieme in tempi, spero, brevi. Io intanto vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e se vi piacciono i nostri video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.